Sabrina Salerno ha recentemente aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, raccontando la sua esperienza di fronte alla diagnosi di un nodulo maligno. La cantante ha spiegato al Corriere della Sera il percorso affrontato dopo l'operazione di quadreptomia, un intervento chirurgico avvenuto lo scorso settembre per rimuovere una parte della mammella colpita dalla neoplasia. La scoperta risale a luglio, quando, pronta per partire per gli Stati Uniti, ha ricevuto una chiamata dall'ospedale che le ha comunicato la necessità di intervenire urgentemente. Inizialmente scossa dalla diagnosi, Sabrina ha mostrato una grande forza d'animo, tra trasformando la sua vicenda in un'occasione per sensibilizzare gli altri sull'importanza della prevenzione. Sui social, numerosi fan e colleghi le hanno manifestato solidarietà e affetto, con messaggi commoventi che l'hanno fatta commuovere. Parlando del tumore, che ha colpito una parte del corpo che la resa famosa, Salerno ha dichiarato con ironia che forse era l'occasione per ridurre il seno, cosa che aveva sempre sognato. Al momento Sabrina è in trattamento radioterapico, evitando per un soffio la chemioterapia. Se in futuro dovesse essere necessario, non esclude una mastectomia. Al suo fianco ci sono il marito Enrico e il figlio Luca Maria, che l'accompagnano con ottimismo e serenità, la malattia mi ha fatto vedere le persone in modo diverso, ha concluso, sottolineando come adesso riconosca chi le sta accanto sinceramente.